L'unidì 6 febbraio buongiorno ai telespettatori di la CIE, benvenuti al primo appuntamento con l'informazione. Prima di andare a vedere quali sono gli argomenti riportati questa mattina sui giornali. Una notizia di cronaca arriva da Gioia Tauro e precisamente dal porto di Gioia Tauro dove questa notte sono stati sequestrati 55 kg di cocaina purissima. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della compagnia di Reggio Calabria. La droga si trovava all'interno di alcuni container che trasportavano succo di limone e proveniva dall'Argentina destinato al porto di Gioia Tauro. E poi c'è un'altra notizia, la vediamo dal vibonese.it riguarda lo sbarco, il primo sbarco dell'anno di migranti al porto di Vibo Marina. Sono arrivati oltre 600 disperati del mare. Siamo già in grado di mandare in onda le immagini che si riferiscono proprio all'ultimo sbarco di questa notte. Hanno accolto il personale dispiegato per la prima accoglienza con un lungo applauso. I 612 migranti giunti intorno alle 21 ieri sera al porto di Vibo Marina a bordo della nave 18 della Guardia Costiera. Infreddoliti, avvolti, interi coperte, i migranti soccorsi a largo della Libia dove navigavano a bordo di 5 diversi vecchi barconi. Sono stati così presi in carico dal dispositivo predisposto dalla prefettura di Vibo Valencia con l'ausilio di forze dell'ordine, personale medico, protezione civile e associazioni di volontariato. Dispositivo che gestirà le operazioni di prima accoglienza, riconoscimento e smistamento verso i centri destinati per tutta la notte. È considerata anche la consistenza numerica dello sbarco, uno dei più importanti avvenuto nello scalo vibonese. Tra i 612 migranti ci sono stati anche alcuni feriti a causa delle traversie, del viaggio e dei sospetti, casi di tubercolosi. 61 le donne e 97 minori, 90 dei quali non accompagnati, che resteranno nelle strutture d'accoglienza presenti sul territorio vibonese. Tutti gli altri verosimilmente saranno destinati in altre regioni, secondo il piano di riparto predisposto dal Ministero dell'Interno. Queste dunque le prime immagini dello sbarco di questa notte a Vibo Marina. Ne sono arrivate, lo ricordavo, oltre 600. Maggiori dettagli su questa e altre notizie, ovviamente nel corso del telegiornale delle 14. E adesso, come vi annunciavo, andiamo a dare uno sguardo alle prime pagine dei giornali. In primo piano c'è la politica estera, eccola l'apertura sul Corriere della Sera. Sfida Le Pen, via da Unione Europea e Nato. Il titolo ha tutta pagina la campagna per la scalata all'Eliseo. In sei mesi referendum Frexit, la leader del Front National a Lione, Filon e gli stipendi fittizi all'insaputa della moglie. Dunque Marine Le Pen, la candidata del FN alla presidenziali, promette, parlando in un comizio a Lione, che porterà Parigi fuori da Unione Europea e Nato. E sullo scandalo degli stipendi fittizi spunta l'ipotesi che fossero erogati all'insaputa della moglie di Filon. Così dunque riporta in primo piano il Corriere della Sera. Poi vediamo la foto di questi quattro giovani, foto a tutta pagina. Sono le vittime dell'ennesimo incidente stradale. I quattro amici che hanno perso la vita l'ultima notte degli amici inseparabili. Titola il Corriere della Sera. Andiamo a vedere qual è stato l'incidente che ha provocato queste quattro vittime. Due incidenti. Nel primo hanno perso la vita quattro ragazzi, poco più che adolescenti, amici inseparabili. La loro auto, probabilmente per una manovra azzardata in fase di sorpasso, è finita contro un pub di Guidonia come comune a est della capitale. Quasi nelle stesse ore, questa volta in centro a Roma, moriva un barman di 28 anni. Da pochi giorni era diventato papà. Questa dunque è la notizia riportata sul Corriere della Sera. Ancora la politica, Movimento 5 Stelle. Il caso Roma agita la base, ma a Di Maio arriveremo al 40%. Il fratello Di Marra è la circolare sul tavolo della sindaca. E poi parla Virginia Raggi, avvio sbagliato, però ho l'appoggio di Beppe e Davide. C'è stata una partenza sbagliata, ma oggi possiamo dire di avere inaugurato una nuova fase. E ho l'appoggio di Beppe Grillo e Davide Casaleggio, con i quali i rapporti sono ottimi. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, si difende e attacca l'inchiesta a suo carico per falso e abuso d'ufficio. La polizza stipulata da Romeo a sua insaputa non hanno indebolito l'immagine dei 5 Stelle, dice. E ancora sempre sul Corriere della Sera di Taglio Basso un'altra notizia riguarda la rivincita degli antipatici in ufficio. Così il titolo, poco amati perché sono esigenti, ma con loro crescono efficienza e merito idocrazia. Ovviamente non può mancare lo sport, come ogni lunedì il derby d'Italia va alla Juventus. E adesso dal Corriere della Sera ci trasferiamo sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica. Eccolo il titolo, Le Pen la sfida. Io come Trump. Il titolo a tutta pagina. Se vinco Francia via da Unione Europea in Nato, il presidente USA Putin assassino, neanche noi innocenti. Video del Papa in spagnolo al Super Bowl, no ai muri. Eurodebole. Shabble attacca Draghi. Questo dunque il titolo e l'argomento riportato in primo piano questa mattina sulla Repubblica che poi racconta un'altra storia, quella dei migranti. La stagione dell'empatia è finita. Quattro italiani su dieci hanno paura, colpa di terrorismo e record di sbarchi. L'ultimo, ve l'ho raccontato pochi minuti fa, al porto di Vibo Marina. Ancora, sempre dalla Repubblica, una notizia di sport, il calcio, un'altra vita per Veltroni. L'ex segretario PD candidato alla presidenza della Lega di IA. Dunque il calcio italiano è una svolta dopo anni di divisioni e contrasti. Sembra stia maturando un'intesa su una nuova governance della Lega di Serie A. Il segnale più forte arriva da una candidatura per la presidenza, quella di Walter Veltroni. Sarà lui uno dei nomi proposti all'Assemblea che dovrà tra poco eleggere il sostituto di Beretta. Così sulla Repubblica. Adesso andiamo a vedere la prima pagina della Gazzetta del Sud. Andiamo a vedere dunque gli argomenti che riguardano più da vicino la nostra regione. Partiamo con l'edizione unica come il lunedì, edizione calabrese sulla Gazzetta del Sud. In apertura, Fondi Unione Europea si indaga sulle finanziarie. Questo dunque è il titolo a tutta pagina. Riguarda l'operazione Robin Hood, nell'inchiesta pure una fondazione vaticana che reinvestiva le somme del credito sociale al centro del Comitato d'Affari, l'ex assessore regionale al lavoro, Nazareno Salerno. Andiamo dunque ad approfondire questa notizia. C'è pure la fondazione vaticana Santa Maria Goretti al centro dell'inchiesta denominata Robin Hood, che ha già portato in carcere nove persone, una ancora irreperibile, tra politici, funzionari della regione e imprenditori, accusati di avere distratto finanziamenti comunitari destinati al credito sociale, ossia alle famiglie disagiate della Calabria. Al centro del Comitato d'Affari, ipotizzato dalla procura distrettuale antimafia di Catanzaro, l'ex assessore regionale, al lavoro, Nazareno Salerno, attuale consigliere regionale di Forza Italia e l'ex presidente della fondazione Calabria Etica, società in house della regione. La gestione dei fondi è stata affidata ad una finanziaria esterna, la Cooper Fin Spa, dietro pagamento di una mazzetta di 230 mila euro che secondo gli inquirenti sarebbe finita nelle tasche di Salerno. La fondazione vaticana avrebbe stipulato un accordo quadro con Cooper Fin Spa e le altre finanziarie. Questa dunque la notizia in primo piano sulla Gazzetta del Sud. Restiamo su questa inchiesta che ha scoperchiato un calderone che non finisce di svelare particolari inquietanti. Vediamo questo servizio. C'era il vigile urbano che a Vibo Valencia si impegnava ad evitare multe ai clienti di un supermercato pur ricevendo a Natale solo un panettone di 3 euro e chi invece più in alto in grado ad ogni Natale avrebbe ricevuto un regalo da 600 euro. C'è anche questo nell'inchiesta Robin Hood che ha portato in carcere il consigliere regionale Nazareno Salerno ed altre otto persone, tra loro pure Vincenzo Spasari, il padre della sposa atterrata in elicottero a Nicotera e Claudio Isola, già consigliere comunale a Vibo e poi impiegato sempre al comune di Vibo nella segreteria del sindaco. Entrambi grandi sponsor elettorali di Nazareno Salerno e che per i magistrati avrebbero messo in piedi un sistema illecito di voto di scambio talmente radicato nel Vibonese da assumere i contorni della normalità. Una normalità fatta di rimproveri ed offese verso il titolare del supermercato che alle regionali aveva scelto di votare Alfonsino Grillo anziché Nazareno Salerno, nonostante i favori che l'imprenditore avrebbe ricevuto dal duo Spasari Isola. Spaccati di un'inchiesta solo agli inizi, che accendono i riflettori non solo sulla regione Calabria ma anche su alcuni settori del comune di Vibo Valencia. Da Vibo Valencia per la CNews24. E adesso ancora cronaca, una notizia da poco arrivata in redazione. La compagnia Carabinieri di Vibo Valencia ha eseguito otto ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari emesse dal GIP nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Questa mattina alle 11.30 nella sala briefing del comando provinciale di Vibo Valencia. La presenza del capo facente funzioni Michele Sir Giovanni si svolgerà alla conferenza stampa per illustrare i dettagli di questa operazione. Ovviamente nel telegiornale delle 14 maggiori dettagli. Andiamo avanti, continuiamo a vedere la prima pagina della Gazzetta del Sud. Un'altra notizia riguarda garanzia giovani. Una beffa. Non è stato ancora nominato il funzionario. Pagamenti sempre bloccati. La cittadella regionale si trova in località Germaneto di Catanzaro. E poi ancora la Calabria. Crisi. Le case valgono sempre di meno. È in questa foto il centro storico di Cosenza. Sempre in primo piano la visita questa mattina del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che sarà ospite dell'Unical aprirà in particolare l'anno accademico. Il capo dello Stato Sergio Mattarella parteciperà stamattina alle 11 alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico all'Università della Calabria. Con lui ci saranno pure il Ministro dell'Interno Marco Migniti e la Presidente dell'Antimafia Rosi Bindi. Ovviamente anche noi seguiremo l'evento, l'arrivo di Mattarella all'Unical. Andiamo avanti ancora dalla prima pagina della Gazzetta del Sud. L'ambiente. Radioattività lungo le coste. Il geologo. Falso allarme. In questa foto gli scavi sulla spiaggia di Montauro, la ricerca di scorie. Non c'è inquinamento radioattivo nel mare calabrese. Ad affermarlo una ricerca del geologo Mario Pileggi, amici della Terra, il quale sostiene che eventuali tracce di radioattività sono da collegare ad elementi naturali delle masse rocciose ed erano state già segnalate negli anni 90. Altre notizie riportate in primo piano, sempre che riguardano la nostra regione, una riva da Belvedere-Spinello. Ed è la cronaca. Palo della Luce cade sui tifosi. Gravi lesioni per un dodicenne. Mentre da Maglierato, nel Vibonese, la protesta vacche sacre devastano le coltivazioni. E ancora cronaca. Da Limbadi, sempre nel Vibonese, migliorano le condizioni del pastore ferito sabato scorso. Prima di andare a vedere le altre notizie riportate sugli altri quotidiani oggi in edicola, la cronaca. Parliamo di un'altra inchiesta, quella che ha riguardato la Cosca Tegano, che aveva ancora il controllo del territorio di Archie. È il quadro che viene fuori dall'ultima sentenza riguardante il potente clan di Reggio Calabria, ma ce ne parla più nel dettaglio il nostro consolato Minniti. Un'andrina pronta alla faida che non ha mai abbandonato le estorsioni a carico di imprenditori che hanno avuto la sventura di aprire un esercizio commerciale nella loro zona di competenza. Sono motivazioni durissime quelle con cui il gruppo Davide Lauro ha inflitto pesanti condanne ai presunti affiliati alla Cosca Tegano. L'inchiesta del padrino, infatti, ha colpito tutta la rete che ha consentito al vecchio boss Giovanni Tegano di rimanere latitante per lungo tempo. Ma nonostante indagini ed arresti, la Cosca di Archie ha continuato a curare i propri affari anche dall'interno del carcere, inviando messaggi verso l'esterno, dando ordini, ricevendo comunicazioni. Attività che hanno consentito, scrive il Gup, la prosecuzione di quei metodi di violenza e intimidazione. E non è un caso che il giudice abbia parlato di faida, perché sono tante le frizioni che Tegano hanno attraversato negli ultimi anni. Una lotta per la successione all'anziano patriarca con al centro la scomparsa di quello che forse, più degli altri, aveva acquisito potere criminale, Paolo Schimizi. Una cosca che ha coniugato tradizione e novità a quella di Tegano, come dimostra la figura di Vincenzino Zappia, condannato a 17 anni di carcere. Di lui il Gup evidenzia quella particolare vocazione a partecipare alle azioni di fuoco, lui che nell'Andrangheta aveva un ruolo particolare e delicato, fare da autista al capocrimine Giuseppe De Stefano. Consolato Minniti, per la Cineus 24. E adesso ci trasferiamo sulla prima pagina di Cronache delle Calabrie. Eccola l'apertura riservata alla visita del presidente Mattarella. Qualcosa che forse non sa. Il titolo a tutta pagina in Calabria si rafforza. L'intesa fra la parte più cinica della borghesia è una criminalità ormai evoluta e scaltra. La magistratura non basta perché manca lo Stato. La sua visita è un'occasione da non sprecare. Poi l'editoriale di Paolo Guzzanti, caro presidente, ti scrivo. Altre notizie riportate sul quotidiano. Una riguarda un incidente mortale avvenuto nel Lazio a guidare. Era un calabrese con Murdaca. Sono morti altri tre ragazzi. C'è anche Riccardo Murdaca, originario di Portigliola. Fra le quattro vittime del terribile schianto della notte, fra sabato e domenica, a Guidonia, nel Lazio. Alle 3.30 alla guida c'era proprio Murdaca e la sua auto, una Mini Cooper, che è sbandata urtando contro lo spigolo di un ristorante per poi schiantarsi. Murdaca viveva a Tivoli, ma proveniva dal piccolo centro della Locride. Le condizioni dell'auto fanno pensare che i ragazzi andassero a forte velocità. E ancora, sempre dalla prima pagina di Cronache della Calabria, una notizia di cronaca che arriva dal Crotonese. Cade un riflettore ferito un tredicenne. Ci spostiamo a Reggio Calabria, incendiata in pieno giorno la giostrina del parco di Spirito Santo, mentre da Caolonia, quartiere Maietta, c'è il rischio di crolli. E a proposito di crolli, un altro si è verificato lungo la strada statale 106 Ionica, nei pressi di Bova, per un cedimento strutturale che ha provocato la chiusura della corsia. Ci sono stati ovviamente attimi di paura. Vediamo le impressionanti immagini di questo crollo. Occhio! Si sbriciola come fosse Polistirolo il muro che costeggia la statale 106 al chilometro 44 e 50. Siamo a Bova, zona dell'area greco Calabra di Reggio Calabria. Qui, nel pomeriggio di ieri, il muraglione, che per anni ha protetto automobilisti e residenti da possibili frane, è venuto giù completamente. Nessun ferito, zero auto in transito. Anas e Polizia Stradale avevano chiuso già dal giorno prima la circolazione, limitandola ad una sola corsia. Troppe le avvisaglia di un imminente cedimento. Colpa di un dissesto idrogeologico imperante che questa volta è andato a provocare scompiglio persino sulla famigerata 106. Come se la strada della morte non avesse già parecchi guai, un'arteria essenziale per la mobilità in Calabria, che dal 1996 ad oggi conta oltre 700 vittime, 9.000 incidenti e più di 24.000 feriti. Solo nel 2016 le persone che hanno perso la vita percorrendo la statale 106 sono state 32, in media 2,6 al mese, una carneficina. Promesse mai mantenute quelle sull'ammodernamento della Reggio Taranto, ma solo in Calabria. Perché mentre il tratto lucano e quello pugliese sono già un fiore all'occhiello della nuova viabilità, il Cipe, dopo ben 15 anni di procedure, ha stanziato per la Calabria solo la realizzazione del terzo megalotto fra Sibari e Roseto Capospulico per un importo di 1,2 miliardi di euro a fronte dei venti necessari per completare l'infrastruttura. Intanto la Calabria continua a morire di sangue ed isolamento. Consolato Minniti per la CNews 24. E adesso siamo sulla prima pagina della provincia di Cosenza. Eccoli gli argomenti riportati in primo piano. Uno riguarda i migranti e l'ultima chiamata del prefetto. Tomao ha convocato i sindaci dei comuni senza sprar. Il governo sollecita soluzioni per l'accoglienza in alternativa a spazio e privati perplessità tra gli amministratori. Solidarità non gratuita riporta così nel titolo la provincia di Cosenza che poi parla di un altro problema tutto calabrese, del rischio idrogeologico. Ennesima brutta figura alla fondo del consigliere regionale Guccione su questo rischio idrogeologico. Abbiamo visto nel servizio di pochi minuti fa l'ennesimo crollo sulla 106 che ha rischiato di provocare danni. E andiamo avanti. Ancora dalla provincia di Cosenza c'è la politica che arriva dal Cosentino di Natale con un pezzo di PD. Lancia la candidatura da Paola. L'ex presidente della provincia punta dritto alla conquista del comune. E poi dall'Oionio Cosentino. L'ospedale è pulito. Il no ha le speculazioni. A Rossano il direttore di un reparto interviene sulla presenza di topi nei giorni scorsi. E ci trasferiamo all'Orica, nella Sila. Presto la riapertura degli impianti. L'ok di Gratteri. Altre notizie riportate in primo piano. Ecco, una riguarda la Sorical. L'elenco dei comuni che avranno meno acqua. Questione di liquidi. Dunque, titola la provincia di Cosenza. Andiamo avanti. C'è la cronaca. In primo piano ancora una rapina. A mano armata nel mirino una yogurteria di Rende. E poi, per quanto riguarda lo sport, ecco le prime trasferte di successi nel racconto sui dieci anni della K42. Questo è l'altro argomento riportato in copertina sulla provincia di Cosenza. E adesso diamo uno sguardo allo sport. Prima partiamo dalle partite che riguardano la nostra regione. Lo facciamo ritornando sulla prima pagina del cronache delle Calabrie. Serie A, Crotone-KO a Palermo. Le speranze si riducono. E poi, per quanto riguarda il volley, Tonno Callipo vince. Ma quanta fatica. Per quanto riguarda il basket, la viola umiliata sul campo di Agrigento. E adesso, in chiusura, la gazzetta dello sport. Eccola, l'apertura di questa mattina. Juve gioca al quadrado. Il titolo a tutta pagina allo stadium 1-0 show. Tra le polemiche, ma l'Inter gioca alla pari. Furia Pioli su Rizzoli. Ci mancano due rigori. Questo, dunque, è il titolo a tutta pagina. Io mi fermo qui. Vi ricordo le notizie con cui abbiamo aperto questa edizione del TG Mattina. Una notizia riguarda l'ingente sequestro di cocaina al porto di Gioia Tauro. I carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno sequestrato 55 kg di cocaina purissima. E poi abbiamo visto l'immagine dell'ennesimo sbarco, il primo dell'anno, di oltre 600 migranti arrivati proprio questa notte al porto di Vibo Marina. Vediamo le operazioni di accoglienza delle forze dell'ordine, dei soccorritori intervenuti sul posto. Un'altra notizia, ancora la cronaca. Ci sono otto ordinanze di custodia cautelare e domiciliari emesse dalla Compagnia dei Carabinieri di Vibo Valencia, alle 11 la conferenza stampa. Maggiori dettagli anche su questa notizia. Nel telegiornale delle 14 io mi fermo qui. Grazie davvero per averci preferito. Noi con la prima informazione del mattino torniamo domani a partire dalle 7, mentre l'informazione torna oggi a partire dalle 14 con il Tg Giorno. Grazie, buona giornata. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie.